Calcio, meglio con la pagina sportiva, quindi calcio, campionato di Serie C davvero tambureggiante dopo il turno infrasettimanale di mercoledì, domenica e lunedì le squadre saranno di nuovo in campo per l'ottava giornata del girone B. Il Pineto, ve lo dico subito, domenica non giocherà il suo impegno ad Olbia, mentre il Pescara lunedì con inizio alle 20.45 ospiterà l'Adriatico Cornacchia alla Vis Pesaro e qui in grafica potete vedere tutti gli impegni di questa ottava giornata. Noi per continuare a parlare di calcio e soprattutto del Pescara c'è in studio Massimo Profeta che saluto. Buon pomeriggio a te. Ciao Massimo, intanto ti dico subito, come si dice in questi casi per il Pescara, resettare il derby? Sì, sì, no, ma è così, non è un'espressione così retorica, assolutamente no, risettare e ripartire, dal resto insomma ormai è stata consegnata agli archivi questa partita, il Pescara ha regalato un tempo, l'abbiamo già detto e scritto, ha più riprese, ha sprecato diverse occasioni, il Pineto, va detto e ribadito, ha disputato un'ottima partita dal punto di vista tattico, il piano gara è stato perfetto, almeno nel primo tempo da parte dell'undici di Amaulo e poi c'è stato l'infortunio. Sono cose che capitano anche migliori, l'infortunio di Brosco che è stato capitalizzato, sfruttato nel migliore dei modi da Gambale che era appena entrato in campo. Quindi insomma adesso davvero bisogna risettare e ripartire, del resto si impara dalle sconfitte e bisogna mettere a frutto, bisogna fare tesoro degli errori che sono stati commessi, non è successo nulla di particolare. Certo dopo la partita, il blitz di Ferrara contro la Spal con tanto seguito di pubblico, 1072 tifosi biancazzurri, ci si aspettava qualcosa di diverso contro il Pineto. Adesso c'è la possibilità comunque di tornare in campo contro una squadra che sta lottando sicuramente per centrare la salvezza, siamo soltanto agli inizi, la Vispesaro. Non è una squadra di alto rango per così dire, però tutte le formazioni devono essere rispettate in questo girone che è molto equilibrato Paolo. Questo va detto e ribadito, un girone equilibrato, la Vispesaro è una squadra che viene da due pareggi, ha cominciato male, tre sconfitte consecutive, ha battuto Lentella 2-0 prima dell'avvento naturalmente di Gallo. Insomma, il Pescara deve tornare a flertare con il successo. C'è una novità riguarda Franchini che è tornato in gruppo, abbiamo già dato conto di questa notizia nel Tg8 di ieri sera, però sarà a disposizione a partire dalla trasferta di Lucca in programma domenica 22 ottobre con inizio alle 18.30. Le scelte per lunedì è ancora presto, però Zeman potrebbe lanciare al primo minuto Cristian Tommasini e non Vergani. Diciamo che c'è questo ballottaggio, in questo momento sembra Tommasini in avvantaggio su Vergani. Tommasini ha risolto i suoi problemi in natura fisica, è arrivato in ritardo di condizione, c'è stato un infortunio in natura muscolare che lo ha penalizzato, adesso sta bene. Cristian Tommasini ha giocato in campionato 28 minuti con il Gubbio, ha esordito in Coppa Italia in corso d'opera contro la Fermana otto giorni fa, realizzando il suo primo gol con la maglia del Pescara. Quindi questa potrebbe essere la novità. Ecco Massimo, volevo chiederti, la questione invece dei nazionali, perché in Pescara ha alcuni nazionali che non hanno giocato il derby contro il Pinetto. Infatti ci stavo arrivando, a Cornero oggi giocherà con la nazionale under 20 di Bollini, ricordiamo a Cornero in prestito secco dal Genoa una delle novità più interessanti di questo primo scorcio di campionato. Giocherà oggi alle 18 con la nazionale under 20 dell'Italia di Bollini a Catanzaro contro la Polonia e sarà quindi a disposizione, perché domani tornerà ad allenarsi con i suoi compagni di squadra a Silvi Marina. Per quanto riguarda invece Tugnov c'è da aspettare la risposta della federazione Estone, perché oggi Tugnov sarà impegnato con la sua nazionale l'Estonia contro l'Azerbaijan, partita importante e valida per la qualificazione dei prossimi campionati europei. Poi martedì prossimo, quindi il giorno dopo il match con la Vis Pesaro, l'Estonia giocherà un amichevole contro la Tailandia. Ecco perché partita la richiesta da parte del club biancazzurro di anticipare il rientro di Tugnov. Questa sera sapremo la risposta della federazione Estone, per quanto riguarda invece Stavr dovrà giocare due partite con la nazionale under 21 della Moldavia e quindi non sarà a disposizione.